Il riferisce la polizia locale. Il bilancio è di 13 feriti, di cui tre in gravi condizioni. Arrivato in Germania due anni fa, il rifugiato siriano ha visto respinta alla propria domanda di asilo e doveva essere estradato in 48 ore e il terzo attacco in Germania. Il presidente turco Erdogan incontrerà oggi pomeriggio i leader dei partiti di opposizione ad Ankara per fare il punto della situazione dopo il fallito colpo di Stato del 15 luglio. Intanto la magistratura turca ha emesso altri 42 mandati di arresto per altrettanti giornalisti accusati di aver partecipato al tentativo di golpe. La corsa verso la Casa Bianca per la prima volta Trump in testa in un sondaggio nazionale secondo le rilevazioni della CNN. Nel giorno del via alla Convention Democratica il candidato repubblicano è avanti di tre punti percentuali. 11 minorenni colpiti da misura cautelare nel napoletano sono accusati di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 15 anni. La violenza sarebbe avvenuta qualche settimana fa a denunciarla la vittima costretta sotto la minaccia di pubblicare in rete il video di un rapporto con il fidanzato. Gli 11 ragazzi sono stati affidati a una comunità di recupero stralciata invece la posizione di un dodicesimo minore di 14 anni. Ancora con il segno più le compravendite immobiliari nei primi tre mesi del 2016 l'Istat registra un aumento del 17,9% delle convenzioni notarili per trasferimenti immobiliari rispetto al 2015. Si tratta del quarto trimestre consecutivo di crescita, andamento positivo anche per i mutui. Ed è tutto a più tardi. Roberto Marcini pronto all'addio all'Inter nei prossimi giorni o forse già nelle prossime ore la decisione del tecnico in seguito alla frattura con la nuova proprietà che sembra ormai insanabile. Ha vuoto anche l'ultimo incontro con il presidente Toir.